Il capo della polizia ha ritenuto di mettere a disposizione della questura di Vibbo risorse qualificatissime, parliamo di 11 ispettori, il procuratore non aveva avuto l'aggiornamento sul numero, sono stati tutti destinati alla squadra mobile, 10 qui e una alla squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Serra San Bruno. Ma ritengo sia una scelta doverosa, assolutamente necessaria, perché oltre al materiale rafforzamento della squadra mobile in termini di numeri, in termini di professionalità, perché come ripeto sono quelli congettati recentemente da quest'ultimo corso qua proprio dalla scuola di Vibbo, che noi stessi funzionali della questura di Vibbo abbiamo provveduto a formare, con la nostra attività anche di docenza, ma è un segnale chiaro, nel senso che la questura di Vibbo è sempre più impegnata in una lotta veramente alle cosche, fatte condotte in maniera costante, continuano nel tempo, estremamente professionale, nei limiti chiaramente delle nostre capacità. Oggi abbiamo ottenuto un grande risultato che ha rappresentato evidentemente il frutto di otto mesi di indagine, dove tutti gli uomini della squadra mobile, del servizio centrale operativo e del commissario di Serra San Bruno hanno veramente dato il massimo, garantendo effettivamente un risultato senza precedenti. Effettivamente nella giornata di oggi sono stati impiegati oltre 100 uomini, e questo proprio a dimostrare quanto fosse importante intervenire in maniera convinta e forte all'interno appunto del territorio di Serra San Bruno.